Colori accesi e la doppia dedica al cestista pratese Federico Ioghi Giuntoni e al writer Richard Biancalani sullo skyline di Prato. E' questo il nuovo murales del playground del Zerradio realizzato da Augusto Ciaramelli e Gabriel Scaranari, la Full Family, con il contributo del comune di Officina Giovani in collaborazione con l'associazione Street Basket Prato. Un doppio omaggio a Giuntoni, a cui era intitolato per il playground, si era disfatto l'opera fatta da Richard Biancalani, che viene ricordato qui nel nuovo murales che inauguriamo oggi, writer, artista, quindi due storie interrotte troppo presto, che ci fa piacere ricordare con quest'opera bellissima in un posto di gioia come un playground. L'opera sostituisce quella deteriorata che fu realizzata da Richard Biancalani per ricordare Ioghi, a cui è intitolato il playground del Zerradio. Abbiamo cercato di ricordare Richard mantenendo il layout del precedente, infatti sotto c'è la silhouette di Prato, poi c'è il disegno di Ioghi proprio nello stesso posto e il lettering che è la scritta Street Prato. Siamo contentissimi perché oltre a quest'opera l'amministrazione ha anche provveduto a realizzare la nuova illuminazione che rende quest'area veramente, gli ha dato nuova vita. Tra la realizzazione murale e l'illuminazione questa è un'area fantastica, in centro città, nel cuore è la città disponibile per tutti. Grazie. Grazie.